Madame, alla vestizione mattutina il privilegio d'entrata è dato agli alti membri della corte, i maggiori diritti alle principesse del sangue e alle maestre della casa, mentre i diritti minori ai valletti e alle cariche retribuite. Sì, sì, madame. Chiunque ne abbia il diritto può entrare in qualunque momento, dovete imparare con precisione il segno di saluto dovuto a chi si presenta. E non dovete toccare alcunché, porgere un oggetto alla delfina è un privilegio ben difeso e riservato a chi ha il rango più alto. Ad esempio, la principessa di Lambala è una principessa del sangue per matrimonio. Madame? Grazie. È freddo. Sì. Buongiorno. Ora il posto va acceduto alla duchessa di Char, poiché anche ella è principessa del sangue. Salve. E adesso, come membro della famiglia reale, a vostra cognata la contessa di Provenza spetta l'onore. Tutto questo è ridicolo. Tutto questo, madame, è Versailles. Premi servizio per Monseigneur, il Dauphin. La famiglia reale. Il Dauphin... A boire per madame la dauphine. Grazie per la visione. So che fabbricate chiavi per passatempo. Sì. E vi piace fabbricare chiavi? Ovviamente.